Cari amici di radio, ICN New York e Italia Madhouse, conosciutissimo non solo in Italia ma anche oltre i confini, lui è un grandissimo showman, voglio ridurre il tutto a questa parola meravigliosa, Paghi Arcella, buonasera Paghi. Buonasera, siamo pronti per San Ramon, un appuntamento che si ritrova e un saluto, ladies and gentlemen, good evening, sono stato bravo, mi auguro per i nostri amici. E sarà una serata ricca di arte e musica come sempre, tanti ospiti importanti, la madrina Anna Falchi, ma soprattutto il Made in Italy in passerella con la moda e soprattutto l'enogastronomia che credo avete già raccontato sarà un successo come sempre, come Gino Foglio organizzatore fa di solito. Allora Paghi, vincito a Morgana Bay qui a Sanremo in pieno festival Sanremese, mi dici una cosa positiva e una negativa di questo festival? Di questo festival credo che c'è armonia, quando c'è armonia si può tenere tanto dalla vita, credo io l'augurio che faccio a tutti, cerchiamo di vivere sereni e di essere persone che possiamo contribuire a questa serenità, cercando di evitare i problemi, positività aiuta a tutti per cercare di ottenere un mondo migliore, grazie a voi. Grazie Paghi, io ti auguro una buona serata e buon San Ramon 2020. Grazie, ciao!